Il sito archeologico di Selinunte continua a regalare sorprese che potrebbero rivelarsi clamorose e contribuire a ridefinire la storia antichissima della città siciliota. Una struttura lunga 15 metri e 4 filari di blocchi per un'altezza di circa 1,80 m è stata scoperta casualmente a pochissima distanza da quella che doveva essere la darsena collegata alla mare a un centinaio di metri dalla riva attuale. Potrebbe essere parte di uno dei due porti dell'antica ex colonia di Megara Iblea, ampio e imponente come richiedeva una delle più importanti città del Mediterraneo, centro di traffici commerciali. Appena pochi giorni dopo il ritrovamento a Segesta arriva un'altra scoperta che conferma alla Sicilia un inesauribile giacimento di reperti che contribuiscono a ricostruire una storia millenaria gloriosa e figlia di scambi culturali ed economici incessanti, ha dichiarato il presidente della regione siciliana Renato Schifani che ha tenuto a congratularsi con gli archeologi del Parco archeologico di Selinunte per questo nuovo rinvenimento. L'assessore regionale ai beni culturali e all'identità siciliana Francesco Paolo Scarpinato dice che si tratta della straordinaria Selinunte e del suo antico porto che la rendeva uno dei centri di commercio del Mediterraneo e invece si è soffermato sulla necessità di sostenere nuove emissioni di scavo e Selinunte sarà tra le priorità assicurando l'impegno del governo regionale per riportarla alla luce nella sua complessità e interezza. Di questa costruzione non c'è traccia nei documenti dei viaggiatori tra 700 e 800 né nelle descrizioni dei ricercatori dell'epoca e di certo molto antica probabilmente fu distrutto comunque sommersa in epoca lontana. Ad oggi gli archeologi non si sbilanciano in teoria avanzando solo ipotesi sulla forma e funzione originale dell'imponente architettura, forse una struttura di contenimento sul fiume, il georadar, registra molte altre strutture sotto la sabbia, forse le pareti di una darsena per le barche, magari collegata alle 80 antiche fornaci scoperte molto più a monte, forse addirittura alla base di un ponte sul fiume. Di una cosa gli studiosi sono certi, è un ritrovamento di grandissimo interesse che potrebbe far riscrivere la topografia della città antica ed è una scoperta del parco archeologico diretto da Felice Crescente che si sta infatti già impegnando per sviluppare un progetto multidisciplinare e avviare le ricerche a partire dal ritrovamento.